Sono solo 57 i decessi imputabili al Covid-19 nella nostra regione dal 20 febbraio al 31 marzo, secondo lo studio promosso dall'Istat in merito alla diffusione del coronavirus. La metà rispetto ai 113 dichiarati dalla regione Friuli-Venezia-Giulia per lo stesso lasso di tempo. Una differenza importante che potrebbe essersi creata a causa della mancanza di alcuni campioni di dati provenienti dai comuni del Friuli-Venezia-Giulia. Secondo lo studio dell'Istituto, a livello nazionale i decessi in Italia rispetto a marzo dello scorso anno sono quasi raddoppiati. La percentuale media nazionale registra un incremento del 49,4%, ma il dato è la risultante di situazioni molto diverse. In Friuli-Venezia-Giulia la media dei decessi totali tra il 20 febbraio e il 31 marzo, tra il 2015 e il 2019, era di 1.244 persone. Quest'anno è incrementata arrivando a quota 1.350, con una crescita del 4,2%, facendo comunque della nostra regione quella che del nord Italia ha registrato il minor numero di morti da contagio. Nel frattempo, i dati odierni diffusi dal vicegovernatore Riccardi fanno segnare un altro balzo in avanti in quella che è la lotta al virus. Nelle ultime 24 ore si sono riscontrate solo 4 nuove positività, arrivando a quota 3.076, mentre i totalmente guariti sono 1.593. Si registrano comunque due decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri avvenuti nel Pordenonese, che portano a 299 il numero complessivo di morti da Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste rimane il territorio più colpito, seguono Udine, Pordenone e Gorizia. Sono solo 4 invece, due in meno di ieri, i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 130 e le persone in isolamento domiciliare 916.